Il consigliere di opposizione nonché medico Franco Sica sollecita il sindaco di Capaccio Pestum a farsi carico di una concreta iniziativa per quanto riguarda la riapertura delle scuole nella città dei Templi. Nella mia qualità di consigliere comunale e di medico del territorio sollecito fortemente il sindaco di Capaccio Pestum nella sua qualità di massima autorità sanitaria ad assumere una iniziativa concreta atta ad assicurare la più capillare esecuzione di tamponi antigenici agli alunni e al personale scolastico in riferimento allo screening di iniziativa della Regione Campania. Molte le segnalazioni di difficoltà nella prenotazione e nell'operatività dello screening che dovrebbe di fatto darci un quadro preciso della diffusione del contagio asintomatico del Covid nella popolazione scolastica capaccese. Peraltro questo dato potrebbe in maniera indiretta fornirci precise indicazioni sulla diffusione del virus nelle famiglie di provenienza dei piccoli studenti e quindi mappare il territorio. La disponibilità in forma gratuita di tali test darebbe a tutti la possibilità di eseguirli evitando una spesa non esigua soprattutto per famiglie numerose. Al sottoscritto risultano soltanto pochissimi tamponi eseguiti a fronte di una popolazione scolastica ben numerosa. Dunque sollecito il sindaco avvocato Franco Alfieri a farsi carico di una concreta iniziativa che sarà utile alla comunità scolastica e non solo del nostro territorio.